buongiorno a tutti ragazzi si avvicina fine mese fine mese vuol dire il nonno convegno dell'associazione italiana di postologia sportiva 30 novembre primo di dicembre a bologna come sempre come consuetudine un piccolo video per invitarvi a questa manifestazione che oramai da tanti anni organizziamo insieme alla federazione italiana fitness e all'associazione italiana di postologia sportiva quest'anno come avrete visto il convegno ha come argomento il linguaggio del corpo come sempre svolto in due giorni il sabato saranno interventi teorici dove tratteremo varie tematiche che riguardano la postura il linguaggio del corpo e la domenica tramuteremo in parte pratica quello che abbiamo visto teoricamente il sabato personalmente terrò due relazioni respiro ergo sum quindi vi parlerò di come la respirazione influenza le nostre emozioni il nostro linguaggio del corpo la nostra postura e poi andrò a parlarvi invece di visceri quindi l'argomento ha come titolo visceralmente vi farò vedere come le catene miofasciali sono influenzate anche dai visceri con me ci saranno relatori e presenter di primissimo piano come sempre nei nostri convegni rino mastro mauro mattia betti beatrice mezzetta cristina gioia il dottor monsellato avremo i docenti storici fif viviana fabozzi marongiu larita babini andrea gobbi qualche sorpresa che già conoscete come possa essere roberta ringio vi aspetto vi aspettiamo a bologna 30 novembre primo dicembre a presto buona giornata ragazzi